Ben ritrovati nel nostro canale, oggi gli avventurosi cronici sono in direzione toscana perché andremo ad alloggiare in un alloggio in sud, quindi se siete degli avventurosi e vi piace dormire in natura, continuate a guardare questo video Ovviamente un po' di ingorgo Eccoci arrivati, guardate che meraviglia già da qua Abbiamo preso tutta l'attrezzatura per fare i video e adesso dobbiamo passare da lì Allora abbiamo chiesto informazione e bisogna salire Sei provato dal viaggio? Sì, un bel po' Ma è stato? Un rottura Ecco Allora ci hanno detto di passare da qua Una bella salitina E siamo già arrivati Ecco quale bolle Questa qui è la nostra, la numero 2 In automatico E la qua troveremo la chiave Ecco la chiave Allora raga, questa è la bubble Guardate com'è bella Qua c'è un tavolino Con i fiori Poi di là ci sono altre bubble Ma qua siamo praticamente isolati Perché c'è questa recinzione così Dario Ragazzi abbiamo già fatto dei contenuti qua Il letto era bellissimo Con due cuori Tutti i petali Guarda, sì vabbè Era tutto bellissimo E adesso vi faccio vedere dentro Intanto qua si entra con una zip E c'è questo atrio Diciamo Dove potete mettere tutte le borse Tutte le cose Bisogna sempre chiuderla Perché se no Si sgonfia l'altra bubble Vedete com'è bella Dura Un pallone E adesso vi faccio vedere Anche l'interno Ecco qua Sì Prima era tutto messo bene E ci siamo saliti sopra Per fare i contenuti Guardate come ce l'hanno fatto trovare Con anche il vino Poi stanotte dovremo riuscire a vedere anche le stelle Perché il cielo è praticamente bello scoperto Questo è il bagnetto C'è la vasca Il lavandino E questo è il gabinetto Poi ci sono già tutti gli asciugamani Che vi occorrono per una notte Ne faremo una notte Vedete se non è bellissimo Dormire qua in mezzo alla natura Vero amore Verissimo Ho lasciato la nostra casetta Adesso andiamo a mangiarci una bella fiorentina Abbiamo scelto questo posticino Che è a tre minuti di distanza dalla nostra bubble E adesso vi facciamo vedere il posto E poi vi daremo una recensione È molto casereccio La prima portata arrivata Io ho preso la fiorentina Con il grano e la rucola Un odore buonissimo Abbiamo preso anche le patatine fritte E Dario ha preso la cosera Scaloppine nella porta fa Il amore è buonissimo E adesso assaggiamo Buon appetito Grazie Recensione cena Ottimo Ottimo Adesso abbiamo preso il tiramisù Guardate che bello Assaggiamo Buonissimo Quasi buono come il mio Quasi Bello fatto Con un po' di pannina Non so se sia un pazzino Ma questa è l'unica foglia Che si muove così C'è Usciti dal ristorante Guardate come è bello Cioè è proprio tipo Casereccio Ma è stupendo E abbiamo mangiato benissimo Eccoci Siamo ritornati Adesso andiamo di nuovo Verso la bubble Torno Alla nostra casa bubble Per una notte Dario adesso Ci aprirà L'arcano Che bravura Trent'anni Ci abbiamo fatto Guarda Anche che lento Ecco Dove abbiamo lasciato I nostri calici di fuoco Guardate che bel rosso rubino Adesso c'è da accendere le luci Che abbiamo staccato giustamente Per Ricaricare i telefoni Accendiamo le luci Bellissimo Bellissimo dai Molto bello di sera Molto romantico Questa Ma mette le dita qua Salute amore Sarà bello caldo Buono però Poi stasera dovremo riuscire a vedere un po' le stelle Vediamo Sì si è liberato un po' È spuntata fuori la luna Cioè Tutti a dormire Che ore sono 23 e 16 23 e 16 E abbiamo in dotazione Ciabattine E mascherina per gli occhi Per dormire Perché è buio Ma c'è la luce Quindi se fai fatica a dormire Con la mascherina Risolvi tutti i tuoi problemi Puoi dormire tranquillamente Ah Poi Importante Ci sono anche I tappi per le orecchie Non so esattamente a cosa servono Visto che c'è Un silenzio Che non vi dico Ma Sono sempre utili Qua c'è la mascherina Facciamo la prova del buio Vediamo se si vede Qualcosa o meno Si vede niente Molto buio Agia Stai facendo Dopo lo vedo Comunque raga Noi andiamo a dormire Con le nostre mascherine I tappi non li mettiamo Però vero Si li mettiamo Come li mettiamo Mi facciamo vedere la colazione Domani mattina Che arriva alle nove e mezzo Te la lasciano fuori Dalla bubble E faremo vedere la colazione Dentro un cestino Ah bello Molto carina Ore 6.35 Io sono sveglia Dalle cinque e mezzo Dario si è svegliata ora E abbiamo fatto bene A mettere le mascherine Perché Guardate che sole C'è già Che luce Non che sole Ora Dobbiamo aspettare la colazione Che però è alle nove e mezzo Io c'ho già fame Sono cambiata Adesso Ho sistemato un po' la camera Tra un pochino Ci arriverà la colazione Arriva alle nove e mezzo E te la lasciano Praticamente Dire il cancelletto Allora Abbiamo dormito davvero bene Se ve lo posso dire Cioè Il materasso E i memory È morbidissimo E anche i cuscini Sono stupendi Abbiamo dormito benissimo Silenzio Colazione Arriviamo Allora Nel termos C'è il caffè americano E poi In ogni sacchietto Ci sono due croissant Poi ci hanno dato Anche il succo Uno albicocca E l'altro Arancia di Segelia Buono amore Buono In realtà Ma piacciono un sacco Eccoci Siamo di ritorno Siamo arrivati a Parma Siamo belli stanchi Perché non abbiamo dormito niente Perché non abbiamo dormito bene È stata un'esperienza interessante L'esperienza è bella Però Tutte le varie bubble Sono molto ravvicinate E non sono insonorizzate Granché Questa è la verità Questo è vero Noi diciamo solo la verità E non è la prima fare sponsorizzate Voglio dare un voto Magari sette e mezzo Non di più Sette, sette e mezzo Poi Una becca secondo me La bubble Essendo fatta di plastica Nonostante ci sia l'aria condizionata dentro C'era tipo un quartetto serra Cioè Quando è uscito il sole Stamattina Verso le otto e mezzo C'era davvero caldo Però è adatta anche Secondo me Per chi è claustrofobico Perché tipo Io Ho problemi a stare in posti molto chiusi E devo dire che mi sono trovata bene Respiravo tranquillamente Anche perché c'era l'aria condizionata Niente È la norma di claustrofobici Quindi se il video ti è piaciuto Metti mi piace Salvalo E condividilo con chi vuoi andare a fare questa esperienza Iscriviti al canale Per non perderti Nessun'altra attività Di questo genere